All'improvviso mi vedevo balanche di commenti, gente che mi contattava su Instagram, Facebook, dappè tutto perché volevano capire dove stavo con il negozio. E senti, com'è partita questa cosa di mettere video su TikTok? Perché mi ricordo che da niente mapparivi te con tipo 200.000 like, tutti questi panini e facevi... Ipnotico, eh? Cioè, guardavi... è ipnotico. Diciamo che questa è pure stata, secondo me, fortuna. Un caso. Sì, perché io due anni prima di quando esplodo su TikTok nel 2021, faccio un video sul telefono vecchio. Eh, ma come c'è? Dici, ora faccio un video. No. È tutto, diciamo, è il destino. Noi avevamo, dove lavoravo prima, avevamo 20-30 cartoni di caciocavalli da 2 kg new e delle salsicce piccanti. E ce le avevamo per dentro al negozio, per dentro alla bottiglia, nel negozio dove lavoravo era piccolo. E io dissi vicino al mio datore di lavoro, dammi due euro, devo fare una cosa. E lui mi disse, la vuoi finire? Sono le sette e mezza. Io dice, non mai? È tardi. Dammi a me, mi obbeghi. Avevamo delle botti di legno dove io vado a creare una sorta di albero di Natale, non solo io, insieme a loro, di caciocavalli e di salsicce piccanti. Faccio questo video e non l'ho mai pubblicato. Dopo due anni si rompe il telefono, compro un telefono con una memoria più grande, vado a mettere i miei dati e mi scarico. Esce questo video. Ero presente già su TikTok, ma non sui video, diciamo. Come utente classico facevo vedere la famiglia, i miei figli al mare e tutto. E vado e vedo questo video. Mi viene la voglia di presentare la mia passione, che è il salumiere. In questo video ci vado a parlare sopra. Il mio primo video è, ecco, ecco il mio mestiere. La mia passione, fatta di mille colori, perché la salumeria è in mille colori, di tanti sapori e di tanti odori. Ho fatto un milione e mezzo di visualizzazioni. Wow! Perché le persone si erano innamorate di questa voce e di questo, diciamo, albero di Natale che avevo fatto. Volevano sapere dove avevo il locale, dove venire a comprare, però non l'ho mai, diciamo, detto per rispetto, diciamo, dove lavoravo, che non ero io il titolare. Faccio un altro video, dove c'è una forma di svizzero grandissima, enorme, di 110 kg, e la vado a pubblicare così, punto, basta. E continuano ancora, ero in hype oramai, le persone ancora, ancora. E chiesi al mio titolare, se si poteva avere un numero di telefono, o se io potevo pronunciare, venite, mi trovo qua dove ero a lavorare. Loro mi dissero di sì, non ci siamo mai fermati più. Loro capivano in quel momento quello che stava accadendo? Potenzialità. Ho detto che io non sono mai stato io il titolare, dove lavoravo, ho incominciato a dire. Ho dato il numero di telefono, arrivavano telefonate dappertutto, ci siamo intasati dentro, non riuscivamo più. Poi abbiamo passato i numeri di telefono, sono un altro numero di telefono, perché abbiamo iniziato a fare le spedizioni, che abbiamo lavorato pure tantissime. Cioè tutta roba che è venuta da te? Cioè loro... Sì, man mano andavamo avanti, io mettevo il numero di telefono e loro chiamavano su questo. L'idea della spedizione veniva da te? La spedizione l'abbiamo fatta sempre, no, tutti quanti insieme, non solo io, tutti quanti insieme. E poi quando ho dato l'indirizzo di dove stavo, organizzazioni di Pullman che venivano dalla Sicilia, dalla Lombardia, che venivano per vedere questo... Il potere dei social, dell'online è assurdo, ti fa letteralmente esplodere, bastano due video a volte e poi... Tutto questo in giro, io ho iniziato il 22 febbraio, il primo video che faccio la presentazione della mia passione, il mese di... a marzo, diciamo, il mese dopo marzo che viene Pasqua, già abbiamo lavorato tantissimo per TikTok. Ti ringraziavano i tuoi ex titolari, cioè ti davano il merito di quello che stava accadendo? Andiamo avanti! Ok, 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 ok. Perché poi a un certo punto smetti di fare questi video, no? Smetti di fare questo video, sì, perché arrivava troppa gente che voleva solo donato e non andava bene, diciamo, per loro. I miei colleghi che stavano dietro al banco si lamentavano che lavoravano tantissimo, giustamente per colpa mia. E poi lo stipendio magari era lo stesso, però... Lo stipendio era lo stesso, si lamentavano e diciamo che questo folklore, diciamo, questa esplosione di questo personaggio non andava più bene. Ma nemmeno nei quartieri andava più bene, perché arrivavano gente dappertutto e si mettevano davanti alle botteghe che c'erano e noi davamo fastidio. Come oggi succede... Ha intasato Napoli! La stessa, bravissima, come oggi succede pure a Napoli, solo che ci ho organizzato, una guardia giurata che li mantiene in linea, li mette dietro al piccoletto, li do da bere, li do da mangiare, cioè ci offro, diciamo, non lo so, la pizzetta, la cosa, cerco di intrattenermi, perché giustamente io porto mille persone al giorno, creo, diciamo, fra virgolette, un piccolo disagio alla zona, allora devo essere io in primis a rispettare pure le regole della zona. E per questo faccio la guardia giurata, tutto il resto appreso, la fila, la coda, escono fuori a cammarli. E per questo faccio la guardia giurata, tutto il resto appreso, la coda, escono fuori a cammarli.